Kermes il persiano, il più prodigioso lanciatore di giavellotto che sia mai esistito sulla terra Il suo giavellotto attraversa i mari e gli oceani La vostra seconda impresa, lanciare il giavellotto più lontano di Kermes La vostra seconda impresa, lanciare il giavellotto più lontano di Kermes Come vuoi, ma lancialo forte, mi raccomando, il più forte possibile Guarda un po' Questa prova è superata, passiamo a quella seguente Grazie a tutti Grazie a tutti